54 anni portati benissimo, un profilo Facebook sempre aggiornato, selfie con i giovani, amante della semplicità e questo è il primo ritratto che viene fuori di Don Michele Fusco, da oggi vescovo eletto della diocesi di Sumuna Valva. Nato nel 1963 il neoparroco di Positano, Don Michele Fusco ha trascorso l'infanzia a Positano e divi frequentato le scuole elementari e medie, è entrato nel seminario di Salerno al primo anno di liceo è stato ordinato sacerdote a Positano il 25 giugno 1988 da Monsignor Ferdinando Palatucci ha ricoperto i seguenti incarichi, membro della Commissione Presbiterale Italiana dal 2003 al 2013 membro del Centro Nazionale Vocazioni dal 2003 al 2013 viceparroco della parrocchia di Santa Maria Assunta in Positano dal 1988 al 1996 parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Monte Pertuso di Positano 1996-2003 parroco di Santa Maria delle Grazie in Benincasa di Vietri 2003-2004 parroco di Santa Maria del Rovo in Cava dei Tirreni dal 2004 al 2006 direttore del Centro di Cesano Vocazioni 1988-2008 responsabile della pastorale giovanile dal 1994 al 2001 padre spirituale del seminario Giovanni Paolo II di Salerno dal 2001 al 2007 dal 2011 vicario Foranio della Forania di Amalfi responsabile della formazione dei seminaristi della diocesi di Amalfi Cava dei Tirreni padre spirituale del seminario maggiore di Capo di Monte nel seminario Giovanni Paolo II di Salerno è membro del Consiglio Presbiterale Diocesano del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Diocesano degli Affari Economici dal 7 ottobre 2007 al 2016 è parroco della parrocchia di San Andrea Apostoli in Amalfi dal 31 ottobre 2016 assume la guida della Chiesa Madre di Positano oggi 30 novembre 2017 Papa Francesco lo nomina Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Ass dostituisata scala